E proprio le minacce dei cosiddetti Novax sono tra le priorità dell'azione del nuovo questore di Firenze, Maurizio Auriemma. Lo ha incontrato per noi Federico Monechi. Quali sono le sue priorità qui a Firenze? Innanzitutto mettermi al servizio del cittadino e possibilmente poter cogliere da subito quelle che sono le esigenze le più semplici e anche quelle più complesse. Come valuta le intimidazioni, le minacce, le aggressioni rivolte dai cosiddetti Novax ad altri infettivologi, altri cittadini, anche al mondo dell'informazione? Sì, purtroppo è un fenomeno al quale stiamo assistendo da un po' di tempo nei confronti non solo di esponenti del mondo della scienza e della sanità, ma anche del mondo della carta stampata e dell'informazione, di tutti quelli che si pongono per affermare i principi della scienza. Noi stiamo seguendo questo fenomeno, oltretutto con segnalazione dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria segue con la dovuta attenzione a questo tipo di fenomeni e sono sicuro che adotterà anche i provvedimenti conseguenti alla violazione dei provvedimenti normativi.